Si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 16 nella chiesa della Beata Vergine Addolorata di Ortanova i funerali della famiglia Curcelli. L'ultimo saluto della città a Teresa Santolupo e alle giovanissime Miriana e Valentina, uccise nel sonno la notte tra venerdì e sabato da Ciro Curcelli, l'agente di polizia penitenziaria poi morto suicida dopo aver compiuto la strage. Il sindaco del comune foggiano Domenico Lasorsa ha proclamato il lutto cittadino invitando attraverso la sua pagina Facebook tutti gli ortesi a prendere parte alla cerimonia e le istituzioni pubbliche, le associazioni e i titolari di esercizi commerciali a manifestare il proprio cordoglio nelle forme più opportune, ad esempio chiudendo temporaneamente le attività. Intanto vanno avanti le indagini dei carabinieri sulla vita del capofamiglia nel tentativo di far luce sulla tragedia. L'autopsia sul cadavere dell'uomo uccisosi con un colpo di pistola alla testa dopo aver sparato a moglie e figlie sarà eseguita nella giornata di oggi. Niente esame autoptico invece per le tre vittime ritenuto superfo in quanto è stato considerato sufficiente il referto del medico legale. Massimo riservo degli inquirenti sull'attività investigativa. Si scava principalmente sulla vita professionale della gente che lavorava nelle vecchie sezioni della casa circondariale di Foggia a stretto contatto con i detenuti. Poco battuta la pista appassionale così come sembrerebbe escluso che l'uomo avesse accumulato debiti di gioco o si trovasse in difficoltà economiche.